Controlli stringenti già a partire da questo fine settimana e per tutta la settimana santa con una vera e propria stretta prevista per il weekend di Pasqua. E quanto stato disposto nel corso della doppia riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia di Bari e Foggia, tenuta in videoconferenza dal prefetto di Barletta, Andrea Trani, Maurizio Valiante, cui ha partecipato anche il presidente della provincia. In ragione di un quadro epidemiologico preoccupante è stata predisposta un'implementazione dei servizi straordinari anti-covid delle forze di polizia, in vista delle prossime festività pasquali, anche con l'impiego di elicotteri, con particolare riguardo alle aree urbane considerate più sensibili, in quanto potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive. Il compartimento della Polizia Stradale della Puglia ha inoltre assicurato controlli mirati anche lungo le strade di scorrimento extraurbano, potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi, per prevenire e contenere forme di spostamento incontrollate ed ingiustificate, con particolare attenzione soprattutto nei pressi dei caselli autostradali. Particolare attenzione sarà prestata alle stazioni ferroviarie e ad altri snodi delle aree urbane. I sindaci della sesta provincia inoltre hanno garantito il massimo impiego delle polizie locali per l'ausilio alle attività delle forze dell'ordine. Nel solo mese di marzo, nella provincia Batte, le persone controllate sono state 10.386, con 373 cittadini sanzionati. Nello stesso periodo, invece, gli esercizi commerciali ispezionati sono stati 1.155, con 7 titolari sanzionati amministrativamente, 9 esercizi per i quali è stata disposta la chiusura temporanea, mentre la prefettura ha emesso ulteriori 19 provvedimenti di chiusura temporanea degli esercizi commerciali. A questo si aggiunge l'attività di prevenzione e controllo dei fenomeni criminali e di ogni forma di illegalità. Grazie! Grazie!